Sono finalmente arrivati i vasi per gli alberi di Natale in Piazza Unità. Qualissima come sempre, ERA ci ha fatto questo bel regalo di partecipare a un po' di tempo, quelli che saranno gli estimenti natalizi, che come abbiamo già pronunciato qualche settimana fa, daranno un po' di vita alla città, una città che si merita, poi siamo di fronte a situazioni ancora complicate, il coronavirus, quindi Natale è segno di speranza, per cui anticiparlo sarà accolto favorevolmente da tutti. E quando verranno piantati gli alberi? Io mi auguro che la prossima settimana arrivino, quindi poi li allestiremo, avremo i luminari, ci prepariamo a partire con un po' di anticipo, iniziando nella prima settimana di novembre tutte quelle attività che l'altro anno le avevamo un po' posticipate. Grazie!